L'energia T scorre nelle terre di Ancaria da tempo immemore. Questo potere misterioso è l'origine di tutta la vita, la fonte di tutta la magia, la sorgente di ogni pensiero. Per interi eoni le serafine vegliarono sul destino del mondo, mentre le specie si trasformavano in civiltà. Dall'alto della loro saggezza decisero di confidare le proprie conoscenze magiche e i segreti dell'energia T agli alti elfi, i loro favoriti. Ma il potere genera paure, rabbia e invidia. L'energia T fu presto al centro di ogni disputa, finché una terribile guerra devastò l'intera Ancaria, seminando caos e distruzione. Dalle ceneri dei morti sorse una civiltà degli alti elfi ancora più potente e avanzata, fondata sull'abuso di energia T. I popoli e le loro splendide città sono minacciati dall'energia sfuggita al controllo. Malefiche creature mutanti hanno invaso le terre, distruggendo qualsiasi cosa. Malefiche varia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.